Buonasera mister, Sant'Eligio di Chance Bet News, io più che analizzare la singola partita vorrei un attimo andare sull'andamento della squadra e le vorrei chiedere se il Catania che stiamo vedendo e che abbiamo visto nelle scorse settimane, cioè un Catania che fa a difficoltà arrivare in maniera lucida soprattutto negli ultimi 25 metri, è un Catania che continueremo a vedere nel prossimo futuro per una serie di motivazioni che lei già ha spiegato in passato, oppure se pensa che ci possono essere dei margini di crescita importanti nel breve termine o quantomeno di qui all'eventuale approdo ai pre-off? Io sapete come la penso, per giocare a palla devi essere lucido, tutti i nostri allenamenti sono incentrati sul possesso palla, sono incentrati sul fare la partita, sono incentrati su delle giocate ben precise che ripetiamo fino alla noia durante tutta la settimana. Poi ovviamente ci deve essere anche la lucidità per riuscire a trovare il coraggio di giocare il pallone anche in partita. Quello dipende da tante situazioni, dipende dall'andamento della stagione, dipende dalla condizione fisica, dipende se hai giocato una partita tre giorni prima, dipende da tante cose. Io credo che quando il Catania gioca contro squadre che come noi, quindi mi riferisco alla Coppa Italia, ogni qualvolta abbiamo incontrato squadre che come noi hanno avuto gli stessi impegni tra campionato e Coppa, noi abbiamo sempre prevalso su tutti, cioè anche quando abbiamo giocato stanchi contro altre squadre stanche, noi abbiamo fatto due o tre gol a tutti. Quando ti incontri delle squadre che hanno preparato la settimana, tipo che non hanno giocato, che non hanno le sei partite in più infrasettimanali che ti hai avuto rispetto agli altri, fai fatica. Io l'avevo detto prima della partita, prima di ieri, però io parlo per l'esperienza di miei 42 anni di calcio tra allenatore e calciatore, avendo giocato la Champions, quindi giocare ogni tre giorni. Una volta siamo venuti qui anche col Napoli, abbiamo perso 3 a 0 col Catania. Non credo che ci fosse tre gol di differenza tra il Napoli che faceva la Champions, la partita dopo mi pare andavamo a Madrid contro il Real e il Catania. Però il Catania quel sabato pomeriggio approfittò di una gestione che ci deve essere necessaria. Quindi quando ti incontri le squadre riposate, e poi dipende anche il periodo di quando le incontri, perché il Monterosi di un mese fa era una squadra e il Monterosi di oggi è un'altra squadra. Penso sia evidente a tutti, almeno quelli onesti intellettualmente, che oggi è una partita viziata da una condizione fisica nostra che non ci ha permesso di essere intensi, di essere aggressivi, di essere lucidi nella gestione di palla e nel creare le occasioni. Questo secondo me va poi, sentirò dire, alibi, le mani avanti, ma se il Catania gioca tre giorni fa bene come fa tre giorni. Queste sono riflessioni, secondo me. E lo dico, credetemi, vi giuro sui miei figli, lo dico senza offendere nessuno. Però sono considerazioni di gente che non ha mai giocato a calcio e che non ha mai avuto la possibilità di fare tre partite ad alto livello nella stessa settimana. Perché se le avesse fatte capirebbe tante cose. Quindi questo è il mio punto di vista. Ripeto, vi ho giurato sui miei figli che non voglio assolutamente offendere nessuno, ma è difficile da fuori. Io lo capisco. Io capisco che uno, un semplice tifoso, un giornalista o un simpatizzante, se no, possa dire, ma come si fa a passare da una prestazione come quella del Rimini a una prestazione tre giorni dopo col Monterosi. Questo lo può capire solo chi ha fatto agonismo e sport a certi livelli. Perché è difficile anche per noi spiegarlo. Cioè, è una risposta dove, anche per noi, è difficile riuscire a far capire di cosa vuol dire un pre-partita, cosa vuol dire una partita di livello assoluto che non puoi sbagliare da dentro e fuori, e il post-partita. Perché non è che te poi sei immediatamente pronto per allenarti, hai recuperato. Cioè, a volte ci vuoi settimane per recuperare una prestazione, soprattutto quando non stai bene fisicamente. Io credo che questo fatto oggi sia emerso. Poi è chiaro che se sei stanco non fai il passaggio giusto, se sei stanco non hai la lucidità di vedere la giocata. Sono tutte cose che noi durante la settimana vediamo e facciamo. Quindi, a me, io vi inviterei a guardare qualche partita di qualche mia ex squadra. Le mie squadre hanno sempre creato occasioni in continuazione, hanno sempre giocato a calcio, però farlo ogni tre giorni, onestamente, in questo momento è complicato. Quindi, ovviamente non sono contento della prestazione, anche se l'avevo preventivata che potesse essere così. Poi, come al solito, qualcuno ha detto, ma si mette le mani avanti. Non si mette le mani avanti. Noi si guarda le avversarie, guardiamo le ultime sei, sette partite dell'avversario e riusciamo a capire che tipo di formazione andiamo a incontrare, se possono avere delle caratteristiche che magari mal si sposano con le nostre, se possono essere magari in questo momento in una forma migliore o peggiore. Noi, quando arriviamo alle partite, non è che io mi sveglio e dico Monterosi domani è la peggiore avversaria che ci potete... non mi interessa a me mettere le mani addosso, cioè le mani avanti, ma a me non mi interessa, cioè nella peggiore ipotesi vado a casa, mi mandano a casa, non è che a me mi fucila qualcuno, capito? Quindi io non ho... Voi mi chiedete un'opinione e io ve la dico per come la penso io. Poi non è che dal Vangelo secondo Cristiano Lucarelli ho la presunzione di dire che tutto quello che dico io è Bibbia, è legge e è così. Mi chiedete, io ho 42 anni di calcio, vi spiego tranquillamente e serenamente come la penso io, il mio pensiero. Poi se ogni volta o metto le mani avanti o trovo le scuse o trovo l'alibi, io vi parlo di calcio, se no non me ne fate le domande cosa ne penso, se poi devo sentire l'alibi, le cose, cioè meglio che vengo dico guarda si è perso perché gli altri sono stati bravi più di noi. Questo è il mio pensiero, in maniera onesta. Buonasera mister, Max Licari, Piani da Catania. Tenterò di parlare di calcio. Solo due riflessioni. Una riguarda appunto la stanchezza di cui lei parlava, no? Lei avrebbe voluto cambiare più giocatori rispetto a quelli che sono andati in campo? E poi la seconda riflessione, lascio poi i miei colleghi, sull'attacco, no? L'impressione, al di là della stanchezza o meno, che si è vinta da tutte le partite che si sono giocate da gennaio a questa parte, è che quando manca Di Carmine in avanti, al di là del fatto che Di Carmine possa o non possa segnare, perché non ha segnato nemmeno l'ultimamente, la squadra ne risenta molto a livello proprio tecnico. È un'impressione che abbiamo noi, oppure è un problema reale della squadra? No, io intanto credo... Allora, la prima domanda era sul... Io, dico la verità, ne avrei voluto ricambiare undici. Il mio istinto mi diceva di cambiare undici giocatori, per come avevo visto questa settimana, per gli acciacchi che abbiamo avuto, per qualche giocatore che ha dovuto giocare nonostante non stesse bene, perché la decisione era tra riconfermare il gruppo che aveva fatto, che si era qualificato per la finale, laddove era possibile, perché quelli che non hanno giocato, e perché lo sapete, hanno tutti dei problemi. Quindi quelli andavano cambiati per forza. E la volontà di fare come ho fatto da altre parti. Cambiare undici giocatori tra una partita e l'altra e continuare a vincere. Io così facendo, da altre parti, ho fatto un filotto di undici vittorie e un filotto di dieci vittorie durante il campionato. Cambiando dieci uomini da una gara all'altra. Quindi coinvolgendo tutti, facendo sentire importante tutti, perché io penso in primis che i calciatori non siano dei taxi. Cioè io non credo nella gestione, nel rapporto allenatore-giocatore taxi, te sei il mio taxi. Quando ho bisogno monto e quando voglio scendo. Secondo me non è così. Se, come ho sempre detto, si vuole creare competitività, se si vuole creare stimoli, se si vuole creare motivazioni, tutti devono avere la speranza di giocare, credere che possono giocare. Perché se no faccio magari come altri miei colleghi e non mi piace allenare dodici, tredici giocatori e gli altri tenerli da parte. A me non mi piace perché verrebbe male anche l'allenamento. Perché se il martedì si sapesse già chi gioca e chi non gioca, ovviamente quello che non gioca non si impegna nei allenamenti. Sta' attento a non farsi male perché magari a gennaio chiederà al procuratore di andarsene o a giugno vorrà andarsene perché non ha avuto lo spazio e te c'hai dei giocatori che quindi ti abbassano l'intensità dell'allenamento, la motivazione dell'allenamento. Quindi per me, per come ho sempre gestito io gruppi, è importante. Però per fare questo non è che mi manca il coraggio, però devo sentire almeno una condivisione, un sostegno. Perché se poi a Lucarelli ha stravolto la formazione, a Lucarelli di qua, a Lucarelli là, andiamo a buttare ulteriore benzina sul fuoco che in questo momento non ci serve. Se avessi avuto il supporto di una continuità di risultati, l'avrei fatto tranquillamente oggi cambiando 11 giocatori. Purtroppo non ho al momento questa continuità, quantomeno in campionato, di risultati e ci pensi una volta di più prima di fare quello che sarebbe stato giusto fare. A, perché sicuramente avremmo avuto una squadra più reattiva e fresca e B, perché sicuramente tuteleremmo i giocatori e non, come è successo per qualche giocatore, non si sarebbero infortunati. Quaini si è infortunato proprio per questo motivo. In un momento che giocava bene, l'abbiamo fatto giocare tre volte consecutiva, la terza si è fatto male. L'attacco, 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 allora l'attacco credo che in questo momento noi, quantomeno nelle ultime, anche se la partita mercoledì è una partita diversa perché comunque te vai in vantaggio dopo 17 minuti ed è quello che volevi fare e poi ovviamente diventa una partita dove si sta uno a uno e provi a fare qualcosa di più ma devi stare attento anche agli equilibri in quel momento lì, perché basta poco per sentire le cose. Poi secondo me, a parte oggi, che abbiamo, ripeto, secondo tempo più che altro abbiamo tirato, sì c'è stata una reazione emotiva, però abbiamo tirato tante pallonate in avanti che non è una cosa che io chiedo. Però per giocare bene, come ho detto prima, bisogna essere riposati, lucidi, concentrati, con tutte cose che oggi per noi era difficile ma non per cattiva volontà o perché uno se ne sbatte del Catania, ma perché, ripeto, queste sono sensazioni che solo uno uno che l'ha fatte può capire, no? È come se te vai da un camionista e gli dici è dura viaggiare la notte, te te lo puoi solo immaginare, ma non potrai mai vivere quei momenti lì a viaggiare di solo di notte, in mezzo alla strada, in mezzo alla neve, in mezzo al ghiaccio, con la paura che possa succedere qualcosa e tutto il resto. Quindi io credo che noi, al netto di questo, sicuramente la manovra nelle ultime settimane non è una manovra che mi sta piacendo, non è una... ma non mi sta piacendo perché vedo poca serenità, vedo paura di fare la giocata, vedo preoccupazione di prendersi la responsabilità e questo sicuramente diventa poi... la conseguenza è non riuscire ad avere un gioco fluido e diciamo di vedere e di giocare anche bene, questa è sicuramente la conseguenza. Leonardo Russo per Futura Production, buonasera mister, già dalla prossima gara sulla base di ciò che ha detto precedentemente, dalla prossima gara contro l'Avellino, quali saranno le mosse che lei adopererà? Perché comunque dopo l'Avellino ci saranno le due partite in casa contro Audace e Potenza poi l'andata di Coppa Italia, il calendario continuerà ad essere molto fitto quindi concretamente quali sono le possibili mosse che lei farà? Al netto di tutte le difficoltà ovviamente. Intanto domani faremo la conta, perché noi abbiamo qualche giocatore con dei problemi che ha iniziato la partita già con qualche problema, non grave ma che comunque era fastidioso e poi noi alla fine di ogni partita abbiamo sempre un bollettino di guerra abbastanza corposo quindi intanto capire quelli che saranno disponibili e chi no capire anche chi ha attitudini a giocare su un sintetico e chi ha problemi a giocare sul sintetico che può compromettere la stagione o il prossimo mese perché ci sono dei giocatori che hanno dei problemi a giocare sui sintetici e quindi dopo di questo si cercherà di fare come sempre, di cercare la miglior formazione possibile perché io credo che poi alla fine non ci sia un'altra persona più dell'allenatore che voglia che la propria squadra vinca. Non c'è nemmeno il più incallito dei tifosi, non c'è nemmeno il presidente più appassionato alla Moratti per dire che possa volere più di un allenatore che la propria squadra giochi bene e vinca quindi si cercherà di decidere e scegliere per quello che si vede durante la settimana per quelli che sono i feedback dei giocatori perché io con i giocatori parlo sei stanco, hai riposato, hai recuperato, è tutto a posto, te la senti mi puoi dare questo tipo di prestazione, mi puoi dare questa cosa io ho sempre parlato con tutti e quando arrivo poi a decidere come prima delle partite decido sulla base di una serie di informazioni che magari il tifoso non ha o magari il giornalista non ha e ovviamente perché non ha giocato quello? Le cose sono due, o mi drogo oppure ci possono essere dei problemi non ho fatto mai uso di stupefacenti, nemmeno uno spinello in vita mia quindi credo che sia per le rinformazioni che le scelte le facciamo sulle base delle informazioni che durante la settimana raccogliamo. Buonasera Andrea Cataldo da Sicilia, le riporto le parole del suo collega l'allenatore del Montero Situscia che ha definito la sua rosa la migliore dei tre gironi al netto delle tante attenuanti che noi giornalisti e anche parte della piazza ha riconosciuto al gruppo, non crede che in momenti in cui la condizione fisica non c'è come lei lo ha ammesso e noi l'abbiamo riconosciuto ampiamente la presenza di qualche leader in mezzo al campo magari potrebbe essere un difensore, un centrocampista, un attaccante può aiutare la squadra in momenti di difficoltà? Ecco, la mia sensazione è che questa squadra non abbia dei giocatori due, tre leader che possano trascinare in una gara come questa dobbiamo sempre ricordare che avete affrontato la penultima del girone. Allora, io a questa domanda andrò a faccio fatica a risponderti perché io sono venuto a Catania la prima volta nel 2017-2018 ovviamente poi mi sono documentato anche sul... ovviamente finché Catania era in serie A e serie B era facile anche seguirlo poi c'è stata la retrocessione, mi pare nel 2015 dopodiché da lì quando sono venuto mi sono interessato a quello che è successo nel 2015-2016-2017. Poi ovviamente siccome ho avuto delle soddisfazioni in questa piazza ho continuato a seguirla, questa è la terza volta che torno quindi ho continuato a seguire anche voi, ho continuato a seguire anche quello che si diceva perché comunque quando poi una società, un club ti c'è affezioni continui a seguire e speri che le cose vanno in una certa maniera. Io penso che dal 2015 questa domanda da averla sentita almeno cento volte cento volte quindi vuol dire che dal 2015 si manifestano sempre gli stessi problemi, no? Io credo che se uno va a rivedere anche le vecchie conferenze le domande quando magari i risultati non sono quelli che tutti auspicano e che per certi versi questa squadra e questa città meritano poi le domande sono sempre quelle i leader, la pressione, il peso della maglia alla fine è dieci anni che ci sono questi problemi quindi io faccio fatica a risponderti perché è un qualcosa che si ripete quindi cerchiamo di capire seriamente dove può stare il problema perché qui porto un esempio 17-18 io arrivo secondo sfioro di pochi punti la promozione diretta e poi succede a quel tempo non c'era la possibilità di migliorare la rosa in modo corposo vado via io arriva Marotta arriva Di Piazza arriva Calapai arriva Carriero arriva tutta una serie di giocatori che mi avrebbero fatto comodo anche l'anno prima, no? Catania parte 2-0 al Verona in Coppa Italia la presunta anche ripescaggio dopodiché Catania con una rosa nettamente più forte rispetto all'anno prima arriva quarto e anche lì stessi problemi giocatori importanti Marotta l'anno prima aveva fatto il gol a Siena che ci condannò fece una partita sembrava una forza della natura nella partita di andata a Siena fece anche gol è venuta a Catania quanti gol ha fatto? la domanda è perché gli allenatori quando sono qui sono tutti scarsi i giocatori quando sono qui sono tutti scarsi i dirigenti quando sono qui sono tutti scarsi poi magari da altre parti per dire io scarso sono da tanta parte ho vinto un campionato una supercoppa altri giocatori hanno fatto quindi secondo me io non ti so rispondi a questa domanda perché qui ci sarebbe tutto per vincere soprattutto ora voglio dire è una società importante con progetti importanti però alla fine poi si parla sempre degli stessi problemi le domande alla fine sono sempre le stesse si va sulla personalità si va sui leader si va sui attaccanti che non fanno gol che magari li hanno fatti prima di venire qui ma poi arrivano qui e non li fanno quindi non lo so non saprei il giorno che lo scoprirò anche se non allenerò più il Catania farò una conferenza stampa vi chiamo e mi dico guardate ho trovato il problema io non riesco a darmi una spiegazione a questo perché qui c'è questa diciamo tendenza Mister buonasera Antonio Di Stefano Live Sicilia sulla scorta anche dell'analisi che lei ha fatto cioè poi è importante anche riuscire a comprendere in un momento come questo visto che comunque si tornerà a giocare di nuovo ogni tre giorni un allenatore il tecnico il tecnico del Catania visto che abbiamo parlato proprio delle problematiche del Catania finita questa conferenza stampa tornando a casa ricominciando gli allenamenti domani cosa può fare per evitare che si ripetano queste cose? si ripetano queste cose no? perché io credo che anche quest'anno Catania forse è riuscita a fare a dare continuità di prestazioni in quattro partite almeno da quando sono arrivato io prima non c'ero quindi non mi permetto di entrare nel merito io credo che da quando sono arrivato io sono arrivato con la Turris abbiamo vinto abbiamo fatto una buona partita poi c'è stata la partita di Giuliano abbiamo vinto abbiamo fatto una buona partita poi c'è stata la partita col Crotone abbiamo vinto in Coppa Italia abbiamo passato il turno abbiamo fatto una buona partita e poi secondo me c'è stata un'altra ottima partita col Francavilla perché si è giocato cento minuti a una porta abbiamo tirato non so quante volte il possesso palla penso sia stato il più alto in assoluto da quando ci sono io dopodiché è riniziato questo andamento sicuramente io prendetemi per matto come mi avete preso per matto nel 2017-18 a Lentini quando alla fine della partita 0-0 il Lecce andò a più 10 e io dissi oggi sono ancora più convinto che vinceremo il campionato ci sono andato ho sbagliato di poco perché siamo arrivati poi a essere addirittura a sorpassarlo il Lecce a un certo punto della classifica io vi dico ripariamone a fine stagione perché a questo punto a noi da qui alla fine oltre che a sistemare la classifica sono molto più contento di avere una squadra che nella partita secca vince per quello che dobbiamo fare noi nel proseguo è chiaro che quando una cosa inizia male diventa anche difficile metterci mano diventa anche difficile quando ogni tre giorni sei ora domani è defaticante vuol dire che la palla non la vede nessuno tranne quei giocatori che oggi non hanno giocato martedì siamo sul Purman e partiamo per Avellino quindi vuol dire che martedì facciamo una rifinitura quindi non hai tempo né di correggere la partita né di riguardarla con i ragazzi perché devi far vedere i firmati dell'Avellino quindi non puoi neanche chiamarli dirgli guarda qui ha sbagliato questo movimento qui ha sbagliato questo passaggio qui ha sbagliato la diagonale perché non c'è tempo perché non c'è tempo per poter fare niente c'è tempo giusto domani per poterli fare fare un po' di scarico poi martedì un giorno due ore di allenamento per preparare la partita di Avellino e mercoledì giochi la partita quindi per me che mi sento non mi sento un fenomeno non mi sento un allenatore bravo posso avere delle difficoltà posso avere io dico sinceramente posso avere delle difficoltà a preparare una partita in in così poco tempo cioè devi andare dare un po' abbraccio di quello che hai fatto fino a oggi perché diventa difficile fare la conta martedì chi c'è chi non c'è chi se la sente chi ha recuperato chi non ha recuperato chi ha rischio infortuni e fare le scelte purtroppo è così e va accettato ripeto non è che è così non si può fare non si può fare niente mi auguro che arrivi presto aprile aprile faremo le ultime quattro partite di campionato con le settimane tipo spero di riuscire a fare anche dei lavori fisici per poter risistemare la condizione atletica di tutti e presentarci tirati a lucido al playoff però io guardo con grande fiducia perché tanto il campionato alla fine noi lo sapevamo che poteva essere difficile perché noi siamo arrivati cioè io sono arrivato per ultimo qua io sono arrivato per ultimo ho trovato una situazione sto facendo di tutto per cercare di rimediarla perché io sono arrivato per ultimo per ora in campionato non ci sono riuscito abbiamo guardato a un'altra possibilità più pratica più veloce e ce l'abbiamo fatta a riuscire a raggiungere attraverso la Coppa Italia un qualcosa che sarebbe stato difficile no? perché oggi dai primi tre posti ci separano 25 punti quanti? Incosciamente o in maniera logica abbiamo un seguito ma questo però non vuol dire non vorrei che passasse il messaggio perché io non ci sto a perdere nemmeno a chi sputa più lontano quindi cioè non è che qui dici no guarda qui avete sottovalutato il campionato io non ho non te lo puoi permettere io quando 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 sono arrivato il primo anno anche a Troina in amichevole ero sul pezzo determinato perché dicevo se si perde succede un casino quindi quando sei a Catania non è che ti puoi permettere di sottovalutare quindi noi abbiamo cercato di far bene uno e l'altro non ci siamo riusciti dati alla mano al momento non ci siamo riusciti dobbiamo finire lo pretendo in maniera dignitosa questo campionato dobbiamo finire però che non è che finisce oggi oggi è soltanto un'altra tappa ne mancano se non sbaglio altre nove e abbiamo fatto forse incosciamente o forse abbiamo spinto di più nel preparare meglio e con più non lo so con più partecipazione le partite di Coppa Italia perché ci davano un pass che abbiamo capito a un certo punto che non potevamo più agguantare è andata bene ce l'abbiamo fatta concentriamoci su quello costruiamo un qualcosa una situazione che si possa permettere di arrivare a quel momento tirati a lucido e non incerottati perché se arriviamo incerottati poi diventa purtroppo tutto tutto molto più complicato quindi noi lavoriamo per questo lavoriamo per finire il campionato in maniera dignitosa lavoriamo per vincere la Coppa Italia e lavoriamo per cercare di essere protagonisti nei playoff e vincerli ovviamente per far questo abbiamo bisogno di tutti non possiamo lasciare nessuno per strada né dentro né fuori dal campo questa è l'unica cosa che mi sento dire alla luce di una partita che capisco i tifosi che ci hanno fischiato ci hanno contestato dal loro punto di vista è giusto però credo che nessuno qui abbia voglia cioè non penso che Catania sia una piazza dove qualcuno può venire a svernare può pensare cioè sarebbe un folle se uno pensasse qualunque ruolo calciatori magazziniere giardiniere allenatore direttore sportivo se uno pensasse di dire vado a Catania a svernare va rinchiuso immediatamente al manicomio perché sa benissimo che questa è una piazza dove uno viene a svernare anzi uno ci deve pensare due volte perché deve dire ma sei la reggi quella situazione quella piazza sei consapevole dove vai sei consapevole di tutto quindi io credo che noi dobbiamo si cerca di fare sempre il meglio sempre il meglio poi ovviamente a volte ci si riesce a volte non ci si riesce ok ecke